Li facciamo vedere, ecco qui, guardate che amore, non si vede, si si vede, guardate che amore di bracciale Elegante, raffinato, unico, parliamo di una qualità eccezionale, 19 euro, 1, 29 euro, 2, 39 euro 3 meravigliosi bracciali Charles, sono bellissimi 19 euro, non pagate nemmeno la manodopera di un bracciale del genere, placato in oro, 24 carati Perché è una manifattura pazzesca, oltretutto ci sono le pietre, come vi ho detto, sono pietre selezionate Sono pietre comunque ben incassate, non parliamo di pietre incollate, non parliamo di braccialetti che appena le prendete in mano si spezzano Parliamo di braccialetti belli, braccialetti che si possono utilizzare sempre, che hanno la, come si chiama, la catenella Il gancio di regolazione Esatto, quindi non hanno problemi qualsiasi polso, sia un polso un pochino più mingerlino Che su un polso un pochino, prendeteli tranquillamente, ne abbiamo venduti in questi giorni veramente tanti In un momento, perché quando, se poi finisce, ne finisce uno, non potremo, se finisce un modello, non potremo più continuare a farvi questo tipo di promozione Io vi sto indossando i due con zirconi, uno con l'ana proprio accanto a me sul bancone Avete il terzo che ha le campanelle smaltate, l'ananas smaltato e lo zircone sempre a charms Tre bracciali, 39 euro, amiche, sono regalati Oltretutto 13 euro, praticamente con la promozione a 13 euro al pezzo, amiche, non si compra sicuramente un bracciale placato in oro A 13 euro non si compra, come vi ho già detto, come vi dico tutti i giorni, a 10, 13, 20 euro non si compra la gioielleria In questo caso invece avete un oggetto che si trova nei negozi, un oggetto che si trova nei negozi sui 150-200 euro cada uno Perché se andate a vedere un charms con zirconi non potete pagarlo meno di 150 euro Basta andare qui a Milano in centro, si vedono in piazza Diaz, l'ho visto l'altro giorno, ce ne sono in vetrina Sia ad argento che non e costano dai 150-200-250 euro se sono un po' più grandi Vedo diverse telefonate al centralino, bravi amiche Diverse telefonate E allora, stringi, grazie regia, andiamo a vedere anche quello con le campanelle così io mi avvicino E lo vado ad indossare anche a lui così riescono le nostre amiche a vederlo, grazie Eccolo qui Amiche, vi ripresenterò ancora oggi, ieri vi ho presentato un Guardate la grandezza, anche qui non avete problemi di regolazione perché guardate la grandezza del bracciale quando è tutto aperto Andate a tirare le due bull e andate a regolarlo in base al vostro bull Vi ripeto, mi inquadra, vorrei farlo vedere indossato sul collo perché è veramente un amore Guardate la qualità di zirconi che vengono inseriti all'interno di questo cogliè Parliamo di un cogliè tennis amiche, meraviglioso, ve lo faccio vedere bene e non era aperto Guardate che cos'è, parliamo di 50 cm di giro, guardate che luminosità, guardate che lavorazione, castoni a cipollina, zirconi bianchissimi Per un completo amiche da favola, bracciale tennis, orecchini e cogliè Guardate come si piega bene, come è snodato e guardate il bianco delle pietre Come vi ho detto prima sull'oggetto, non mi ricordo, un oggetto di prima, producono, produce questi cogliè Molto grazioso due perle a pera, con una collana che misura quasi 60 cm, dai 55 ai 60 Parliamo di black, parliamo di white, parliamo di zirconi bianchi e neri Questo giro di giallo e di bianco crea veramente una intensità di luce unica 29 euro, confermiamo amiche, prepariamoci ad acquistare tanti bei gioielli a delle cifre veramente uniche Quando noi usciamo e andiamo a farci un giro per i grandi centri delle città Troviamo nelle vetrine, confermare, pensate adesso mi alzo e ve la mostro anche indossata Così vedete anche il vestito, la vedete importante, una collana comunque che ha un bel peso a 29 euro Che dire, 29 euro è un amore di Chanel Vi abbinate un pendente, vi fate un gioiellino unico Potete abbinare ad esempio, questa è un'idea che vi do io Un pendente bianco e uno giallo insieme Perché no? 29 euro Veloce a confermare, non dimenticate amiche che questi sono prezzi di occasione Non ne ho tante neanche di queste Continuiamo a confermare, vedo Martina che è impegnata, tutto il centralino è impegnato Brave amiche, a 29 euro In Russia, in Siberia vengono prodotte acque marine Acque marine anche vengono ritagliate, comunque ci sono giacimenti anche in Siberia È bellissima Queste sono del Sud America Hanno veramente un'intensità di colore pazzesca Se le volete, vi ho detto già prima, se le volete così con questa colorazione Quindi un verde intenso Guardate, sono vestita così Perché non indossare una meravigliosa collana come questa Con un pendente veramente importante Parliamo di un pendente che sarà lungo, cioè che è lungo 7 cm ed è largo 4 cm E l'abbiamo anche in bianco, eccolo qui Varietà calcedonio, quarzo naturale, sempre criptocristallino Varietà calcedonio, ok? È una varietà molto molto pregiata di calcedonio Lo avete, avete anche l'anello, adesso l'anello non ve l'ho trovato Però vi mando l'anello a casa uguale Va bene per qualsiasi ditino, sia per un dito più sottile, sia per un dito più importante 1,39, 2,49, 3,59, 4,69 euro Logicamente, sull'otto da 69, quindi sulle 4 avrete le spese di spedizione in omaggio Le spese di spedizione, noi vi prendiamo, come abbiamo sempre fatto, quello che la posta o il corriere prende a noi Quindi non è che stiamo a mettervi dei soldi in più sulle spese di spedizione In questo caso, su 69 euro avete ancora quei 10, 9, 10 euro di sconto, amiche Quindi è un lotto, secondo me, interessantissimo Vi ho portato ancora il calcedonio, la versione calcedonio Quindi qui abbiamo la versione in crisoprasio Amiche, di quarzi naturali, vi ripeto, il quarzo è una pietra preziosa È una pietra, comunque, come vi ho detto, ha una buonissima durezza Non è una pietra che si sfarina in mano Qui abbiamo dei disegni, secondo me Tutte qua, mi riempiono tutta la bustina Allora, andiamo a vedere adesso il BR numero 100 Un bracciale, vedo che le due colorazioni e le tre colorazioni piacciono molto Semi rigido, cioè morbido però, chiudendolo rimane abbastanza rigido A torsion, in bianco, in giallo e in rosa Guardate che amore di bracciale Guardate che meraviglia Molto spesso tantissimi fili, vedete, a torsion che si vanno a intrecciare l'uno con l'altro E vanno a formare un bracciale con queste caratteristiche Molto, molto particolare Attenzione amiche, veniva 49 euro, 19 euro si porta a casa 19 euro Veloci a confermare Confermiamo al volo 20 centimetri Voglio sentirvi attente Non potete sbagliare acquistando un bracciale come questo Voglio vedere i centralini che veramente sono tutti impegnati Brave amiche, vi dico le cose come sono Purtroppo ne avrei fatte molte di più perché secondo me questo è un classico che sarebbe un continuativo Ma purtroppo le chiusure a disposizione erano quelle quindi ci siamo dovuti accontentare Allora facciamo così Eccolo qui Coglie tennis Montatura a cipollina No a cipollina A cipollina Parliamo di zirconi bianchissimi, elegantissimi Una a quattro bracciali come questi Ha solamente 39 euro Veloci con le conferme Non si può pensare Bisogna comporre il numero E fare la vostra conferma 39 euro 39 euro Voglio grazie regia Ti dico tutti i centrali Non indugiate Perché è veramente un lotto stupendo questo È un solitario stupendo Guardate già in lontananza Guardate in lontananza come è vistoso Come si fa notare Non è possibile amiche Guardate Guardate che amore di pendente Pendenti importanti Pendenti molto importanti Diverse colorazioni E vi ho dato ovviamente In omaggio amiche Vi ho dato sicuramente Più diciamo Importante Guardate che cos'è È bellissima È una gemma naturale Meravigliosa Tante sfumature di colore Un'intensità veramente unica Non vi arriverà mai Una pietra uguale Ogni pietra è diversa L'una dall'altra Quindi amiche State tranquille Perché qui Acquistate qualcosa È qualcosa di unico Come vi ha detto Rubens Se non volete La pietra con il buco centrale Non c'è problema Questa è una particolarità Della gemma Se la volete Integra Ve la mandiamo Senza Diciamo Questa particolare Questo particolare A prenotare Scendiamo Grazie Giuliano Che facciamo Ancora È qualcosa di esagerato Guardate che cogliè Guardate che cogliè Spero di metterlo dritto Spero che si Ah Vi ero portato via anche il tennis Spero che si veda bene Guardate che cos'è Zirconi Naturali Meravigliosi Mettimi il prezzo Giuliano 99 euro Con gli orecchini E il bracciale tennis 99 euro Castonia cipollina Mamiche ma cosa c'è da aggiungere Che cosa c'è da aggiungere Ad un completo come questo Solamente il tennis Amiche L'abbiamo venduto a 59 Il prezzo È un prezzo di occasione Per il cogliè Perché ne avevo solamente 5 Ne ho ancora Hanno comunque Hanno questi Questi tipi di bracciali Logicamente Il prezzo Amiche Non è assolutamente questo Vi chiedo questa cifra qua Perché Ho Diciamo Abbiamo preso E abbiamo visto Questi bracciali E li abbiamo Li abbiamo ridisegnati Modificandoli E abbiamo comunque Messo pietra naturali E quindi Diciamo che il prezzo È un prezzo Molto molto basso Molto vantaggioso Questo Allora amiche Facciamo così Visto che le disponibilità Sono queste Quindi sono 3 Sai quanti sono Ruben? 10? Allora sono O di più 3 6 10 10 pezzi Attenzione amiche Ve li lascio Però voglio terminarli 39 euro 39 euro Si confermano Sono meravigliosi Voglio finirli Perché così Non ne abbiamo più E non stiamo poi A dire Ho fatto l'ultimo prezzo Visto che Forse ne era andato uno Se uno era andato La signora ovviamente Tanto non li ho ancora spediti Questi sono qui Le arriva ovviamente scontato 39 euro Ma che cos'è? Guardate che eleganza Raffinato Elegante Molto particolare Con diverse gemme Centrali Guardate questo contorno Di zirconi bianchi e neri Li ho disegnati io Sono molto particolari Sono di grande gusto Se questi qui Diciamo Non si confermano A questa cifra Sono tutti In stoffa In pelle E Con una struttura Davvero particolare Meravigliosi Quindi amiche Dovete solo confermare Perché a questo prezzo 39 euro Ne sono andati due Mi dicono Continuiamo a fare le conferme Brave amiche Vi voglio attenti Anche qui non avete problemi Di dimensione Il bracciale è aperto Sul retro Misura Ha una misura Molto Fammi una carellata Su tutti Grazie Giuliano Guardate che Confermate Perché è bellissimo Che dire amiche Che dire Qui bisogna Solo confermare Scusami Giuliano Io mi sono messa Un po' storta Ma devo prendere Anche io Un pochino Di dimestichezza Amiche È bellissimo Modello Cartier 159 euro Doppio foderato Elegante Raffinato Non potete Non confermarlo Non potete Non confermarlo È bellissimo E raffinato Con questo bracciale Voi siete Uniche Unico Elegante Raffinato Parliamo di Zirconi A Pavè Parliamo di Zirconi Che vanno a contornare Tutta Tutto il corpo Del serpente A solamente 159 euro È regalato È regalato Amiche Non posso scontarvi Di più Perché se no Credetemi L'avrei fatto Lo sapete Che vi voglio bene E che per voi Diamo il massimo Quindi Amiche Confermatelo Perché portate a casa Dei gioielli Unici Vai sul rosso Grazie a tutti Eccomi qui Amiche Io vi ringrazio Per l'ascolto Siete state Tantissime Tantissime Scusate Tantissimi Maschietti E femminucce Vi do appuntamento A giovedì Alle 14.30 Su canale 65 E poi Venerdì Sabato E domenica Ci vediamo Ovviamente Con 6 ore Di diretta Insieme Vi voglio dire Ancora una cosa Ringrazio Veramente Tutto il pubblico Per l'ascolto Noi siamo qui Che lavoriamo Per voi Mando Un bacio A tutte E ci vediamo Giovedì Buona serata Amiche Un bacio grande Grazie mille Per tutto Buona serata Ci vediamo Buona sera